Essere qui e a inaugurare questa aula intitolata Paolo, in questo giorno io vorrei che veramente mia madre e mio fratello mi vedessero, perché vedete fu proprio mia madre che subito dopo la morte di Paolo, subito dopo l'assassino di Paolo, mi chiamò, chiamò me, chiamò mia sorella Rita, erano i due figli che gli restavano, i due figli più piccoli, ne avevamo un'altra più grande, io e Rita eravamo più figli, più piccoli di Paolo, ma mia madre ci chiamò e ci disse che da quel giorno noi saremmo dovuti andare dappertutto, dovunque ci chiamassero, per non fare morire il sogno di Paolo. Ci disse proprio così, ci disse fino a quando ci sarà qualcuno che parlerà di Paolo, allora Paolo non sarà morto. E io sono 25 anni, anche con momenti di sconforto, momenti in cui ho smesso addirittura di parlare, momenti in cui ho tradito, quindi il giuramento che avevo fatto a mia madre, che vado dappertutto a parlare di Paolo per non fare morire il sogno di Paolo. Io credo che il sogno di Paolo forse non ha bisogno neanche di me per continuare a vivere, credo che uccidendo Paolo abbiano fatto il più grosso errore della loro vita, l'hanno fatto a pezzi mio fratello, l'hanno fatto a pezzi i ragazzi che hanno massacrato insieme a lui, però sapete cosa è successo? È successo che i pezzi di Paolo sono entrati nel cuore di tanti di noi, di tanti, voi non vi immaginate quante persone oggi mi parlano di Paolo come se fosse il proprio fratello, io non sono più soltanto io il fratello di Paolo, ci sono un numero infinito di fratelli di Paolo nel nostro paese, di figli di Paolo e i pezzi di Paolo sono entrati nel cuore di tante persone e a tante persone e a me per primo hanno dato quella forza che neanche sapevamo di avere. Vedete io fino a quando hanno ucciso mio fratello non ero altro che un ragazzo qualsiasi, un ingegnere che avevo pure lasciato la mia città, contrariamente a Paolo. Paolo era rimasto nella sua città per lottare quel cancro che da sempre ha corroso le regioni del nostro sud, Palermo, Napoli, la Calabria, la Puglia, era rimasto per lottare contro questo cancro. Io invece ero andato via, io avevo scelto di andare via, Paolo aveva fatto una scelta di amore e io avevo fatto una scelta per me stesso, andare via da Palermo per cercare di fare nascere e crescere i miei figli in una città diversa, in un posto dove la mafia non ci fosse, mi illudevo che ci fosse, mi illudevo di avere fatto la scelta giusta. Mi sono accorto poi che non è servito a niente perché purtroppo quel cancro dal quale io ho creduto di fuggire purtroppo è entrato in metastasi, si è diffuso e oggi non c'è regione del nostro paese che non sia immune da questo cancro. Però io oggi sono felice perché qui in questa che ripeto è la mia città posso dire a mia madre, hai visto, io sto continuando a lottare, ho 75 anni ma continuo a lottare, continuo a lottare per Paolo, continuo a lottare per il suo sogno, continuo a lottare per non fare morire il suo sogno e farlo qui in questa città che io sento profondamente come mia perché vedete Napoli è uguale a Palermo, Napoli è una città come Palermo, più grande di Palermo, anche più bella di Palermo e lo dico io che Palermo lo amo profondamente ma Napoli ha delle bellezze incomparabili e io avevo sempre sognato Napoli anche da quando non la conoscevo, ci venne per la prima volta a Napoli, pensate, avevo già 18 anni quando venne a fare la vista per il corso allievo ufficiale la venne a fare qui a Napoli e quindi quella città che da sempre sognavo la conobbi allora in quel momento ma sognavo da sempre, sapete perché? Perché io Palermo la conoscevo, Palermo è bellissima come Napoli ma è anche tanto scempiata, tanto rovinata, la mafia l'ha rovinata Palermo, il sindaco di Palermo è stato per anni un mafioso, si chiama Vito Ciancimino e ha distrutto la parte migliore di Palermo, l'ha letteralmente distrutta e io pensavo a Napoli come una città bella come Palermo in cui però non ci fossero i guai di Palermo, i problemi di Palermo perché vivendo lontano mi illudevo che fosse così. Zocco buono, bravo, grazie. Sarebbe sempre con lui e con lui, sempre, 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 si vogliono andare. Grazie avete fatto con me? A tutto il meridione, a tutte le terre che sono sbagliate dalla mafia, dall'andranghia, dalla camorra, dall'andranghia ci trova ancora, ci trova sempre, siamo lì, siamo in prima fila e siamo ovunque.